Buongiorno, è arrivata l'ora di rivederci, arrivederci a primavera! Gatta! Allenamento! Qui qui qui, devi correre più che puoi Per restare nello stesso posto Se vuoi, se vuoi, se vuoi andare Non c'è, da qua a un piatto a parte No non, corichetto! Non ci ascoltiamo Il nostro tempo vale bene matrava nel video Non è giusto Non è giusto E' giusto E' giusto E' guardata E' giusto E' giusto E adesso è ora di dormire, quindi a dormire. Su, a dormire. Grazie.